Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova edizione dei saggi online della Scuola di Musica del Garda. Abbiamo il piacere e il privilegio oggi di ascoltare gli allievi di violoncello della classe della maestra Daniela Savolli. I ragazzi sono tutti pronti, sono molto carichi, li ho visti nelle quinte, quindi si stanno preparando per questo momento che li vede di fronte a un grande pubblico. Quindi non perdiamo assolutamente tempo, ma diamo via alle esecuzioni e augurando a tutti buon ascolto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.